Ma riguardo a questo confronto? Parli tardi, che io in questo momento rappresento di ufficio e che mi hanno chiamato alle gambe per chiedere di essere messi a conto. Alla fine lei mi faccia questa istante, quando finiamo questa prima tornata di confronti saranno esaminate tutte le richieste di coloro per i quali il tribunale non ha disposto. Almeno che non siano già inserite nel gioco. Eh, quindi potrebbe anche essere così, quindi alla fine samiteremo ci sarà il cosiddetto ripescaggio, per usare un termine. Conosce questa persona? Chi è? Carmina Scindasi. Avete qualcosa da contestare a Leonardo? Created with free version for non commercial use. E che c'è da contestare? Dice che mi conosce ovviamente. E dice che siete anche appartenenti alla NGO, non dice tuttanto di questo. E se lo dice lui ovviamente? Non avete nulla da contestare. Eh, cioè, tutte le che lo dico, che mi protesto innocente, cioè, sarebbe una cosa che ti dice tutto. Cioè, come lo sa, come appartengo, come appartengo, forse... Eh, penso che è una bella associazione, ma poi penso che non c'è sto quasi dicendo come appartengo, come non appartengo. No, ma è capace che non sa, è capace che non sa, cioè... Non è pure, oh, oh, non facciamo sti cosi. Cioè, se voi lo vedete parlando così, confermati, cioè, nel vederlo parlare così, già vedete che mi conosce... Voi potete, voi potete dire che mi conosce su serio. Io. Cioè, vedendo parlare le... Io non so tenuto anche se che non sapevo. Cioè, le sue mani come sa fare, i suoi dialoghi. Forse... Created with free version for non-commercial use. E ha delle contestazioni da muoverle. E se vuole, scusate, che... E invece non ha niente da dire. Ma no, come mi conosce? Dove mi ha conosciuto? Colpo San Paolo. Dove? Sul San Paolo. San Paolo. San Paolo? San Paolo. E in colpo San Paolo, come voi? A Ria di Cianè. O San Paolo, a Puceriale, a Campo, noi abbiamo fatto l'ironia. Campo, Cianè, a San Paolo, a Ria di Cianè. E a Napoli stai. E a quello San Paolo? Eh? A quello San Paolo. Io sono mai stato colpo San Paolo. Maestate? Potete verificare, signor Presidente. Verificare? Potete verificare, maestate. Non siete mai stati. Cioè, sono stato, sono stato, mannascolso, tu al San Paolo. L'anno scorso mi hai conosciuto? Quattro mesi, l'anno scorso. Potete verificare. Mi ha operato il Dr. Campanella. Potete verificare. Non sono mai stati. Eh, appresta. Ma, se si va, dai, c'è un po' San Paolo. Eh? E da qui lui, vi fu presentato come... Mi fu presentato come camorrito. Created with free version for non-commercial use. Ma scuola era amico? C'è un po' San Paolo. E' un po' San Paolo. Eh, vedete come parlo io con voi. Sì, c'è proprio quella convidenza che io non so come farà ad averlo. Esatto, no? Sì. Eh, non vedi il motivo perché parli così, no? Come sto parlando? Sono maleducato? No, per l'amore di Dio. Sono maleducato? Sono scussumato. Mi riguarderei. Oh, comunque voi dite di non conoscere, ma, leonardo? No, no. Non l'avete mai vista? Secondo me, secondo me è la seconda foto che lo vedo qui. È la prima volta. L'abbiamo visto in quella che abbia la sabato, cioè l'ultimo udente, quando l'abbiamo fatta? Venerdì. E non visto mai? Cioè, ovviamente i pendisti. Quindi in precedenza non l'avevate mai vista? No, ho mai visto. Cioè, ovviamente, ho detto la seconda volta, perché ovviamente non le prendete, 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 anche la curiosità di farle vedere. Esatto, no? Per vedere queste essere, queste viscere che sono. Come si offenderlo? Come si offenderlo? Come si offenderlo? Perché i casi, si è, ma come si offenderlo, offenderlo for io. No, la città. Created with free version for non-commercial use. Silenzio, è inutile che fate questo ghiastro dalle gambe. Ho sempre detto che il confronto deve essere fatto sui limiti di correttezza dell'uno verso l'altro. Non potete pretendere di essere protetti della vostra onorabilità se non lo siete con gli altri. Questo sia chiaro, è inutile fare questo ghiastro. Perché come vedete il confronto serve a tutti ed è vostro interesse farlo fare nel pieno rispetto alle norme processuali. E sia chiaro che io non tollero queste cose. Perché è nell'interesse di chi viene fatto questo confronto che io faccio queste cose. Quindi state zitti e state calmi. Signor Presidente, io qua sono venuto per fare i confronti, non per essere in sottosso. E è giustissimo. Comunque, signor Presidente, non voglio più fare i confronti. No, lasci stare questo, perché questo non significa che ho redarguito l'imputato e non si permetterà altri di fare queste cose. Va bene, va bene. Perché il rispetto al reciproco in quest'aula, per me, siete sullo stesso piano, giusto? Come diritto al rispetto al reciproco. Created with free version for non commercial use. Non con lei, avete altre contestazioni? Lei prende un po' gli affronti che io ho conosciuto a Berlione e San Paolo. Insieme a me c'era il Damiro, il Damiro me l'ho presentato. Certo, avete altro da contestarglielo? Eh sì, lui dice che non mi conosce. Faremo indagini su questo fatto di San Paolo. Lui ha detto che aveva conosciuto a San Paolo e siete stato presentato da Pasquale Damiro. Avete altro da contestare? Potete andare. Ok. Ciao. Ciao, non lo dica alla corte, Argentato. Sì. Eh? Non faccia commenti, Argentato. Sì, pari. O dici, non vorrei finire. No, 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 no. Created with free version for non-commercial use. Dico Antonio, ha delle contestazioni da muovere a Leonardo. Visto che mi conosce, sa se sono camorrista. Ma che non ce l'ha mai mai? No, non di quel te, sta insieme, o già. Si è camorrista? Comandante, si sai, si è camorrista. A me per i sottili si è camorrista. Quando ci state fatte? Eh, se volessi stare a legalizzazione, la date. Scusa tanta cosa, Monti. La date tutte le legalizzazioni. Approssimativamente. Che? Approssimativamente, quando sono state fatte? Eh, non lo so, è scelta lì. Ma andate, potete andare. Non l'avete mai vista? Non mi ricordo, si è presidente. Non vi ricordate il nome o non vi ricordate la... No, anche la persona, non vi ricordo. Non vi ricordate nemmeno la persona? Chi vi sta di fronte si chiama Correale e il nome. Preto, Peppe o Correano. Mi dice niente questo... Ma non, ma sì, ma lui personalmente no, no tu. Può darsi che sarà... Cogcando un regalo che gli... Non mi ricordo, signor Presidente. Lei ha detto in istruttoria di aver conosciuto personalmente il Correale Giuseppe, anche con il soprannome. Poi quando è stato sentito in dibattimento ha detto di non ricordare nulla di lui, ma di aver conosciuto una persona soprannominato coreano al padiglione Genova di Poggio Reale. Sì, ma non è lui. Era un'altra persona che aveva questo soprannominato. Sì. E quella persona che le ha conosciuto al padiglione Genova con questo soprannominato era un camotrista. Sì. Ma non è lui. No, no. No. Avete domande da rivolgere? No, sì. Avvicinami, no. Può andare. Può andare. Created with free version for non-commercial use. Conosce questa persona? Sì. Sa dirmi il nome? Costa Giosuè. Costa? Costa? Esatto. Io non c'erano la bocca da lì. Ma e beh, e che significa questo fatto? Non lo so. No, io voglio capire se voi praticamente venite qua per fare lo spirito. No, io non so, faccio due anni. Se ho preso la una, non già esiste più. No, questa è la faccia delle contestazioni. Questa gli hanno riferito, signor Pilgrino. Presidente, io apparteniamo da noi, gli hanno riferito, c'è una terza persona. Gli è andata a dire a lui qui che io sono concorriso. Come cortesemente, mi lo dici tu a me. C'è che ti ha appartenzato a te, c'è un compagno. Non mi dico. Non mi dico. Che ragazzi, ti ho conferito? Eh, questo mi fa piacere, perché io sono in la verità, non sono ultimano. Avete che ti dico la tenicina? Non ti dico la tenicina? Leonardo, Leonardo, Leonardo. Il confronto. Il confronto. Created with free version for non-commercial use. No, cortesemente, mi vuoi compara tu e te? Mi vuoi compara tu e te? Lasciami un po' di te. Oh, anche questo. Non so, praticamente, mi vuole, siamo proprio illuminati. Anche questo, mi vuole compara tu e te. Ho dichiarato proprio a lui, personalmente. Se hai davermi lui, legalizzato, personalmente. Praticamente, no. Lui non so, che mi vuole compara, perché di fatto, a lui hanno riferito, se io preso, a tutti i anni che si passa a sola. Ok. Agli altri, non vengono la carta lì, non vogliono le tracce, mi sono messa come ora. Con quale gruppo mi trovo io? Allora, non si vado sul paese, ma io sono un paese. No, non so, non so. Created with free version for non-commercial use. Voi lo conoscete o no? No, io voglio sapere quello che dichiarate voi. Non l'avete mai visto? Dice, da del 78-79 mi hai incontrato sul padiglione d'Italia, è così, è registrato. Posso esibire un documento? Questo lo esibirete. Comunque, certo. Ma prima, quando si è bisogno? 78-79, coppa d'Italia, io non esistevo proprio, c'è un Presidente. Comunque, non esistevo proprio, non esistevo proprio. Non esistevo proprio proprio, non esistevo proprio. Non esistevo proprio, non esistevo proprio. Un Presidente, non esistevo proprio. Un Presidente, non esistevo proprio, non esistevo proprio. Created with free version for non-commercial use. Un Presidente, vi lascio, vi faccio presente. In cance di dove stava, sarebbe a pescava. Quando mi hanno notificato la sua intrigatura, così grave, che venuto non detente, ha morto, io continuo a lavorare. Io ero capo cucina, cucina fuori tutti, io ero un po' con un po' con un po' di ci, che faccio io, un Presidente. Voglio che voi, se avete delle domande da fate, allora. Non esistevo proprio, non esistevo proprio. Vabbè. Con Palitania si è mai stato, con Palitania si è mai stato. E ti faccio a stare un sito, non esistevo proprio. Stavo a dire a me, si è mai stato con Palitania? Tu fatti i fatti tu, si sono stato. No, no, guarda. Il confronto è questo, come fate le domande a voi? Non si sono stato questo. Voi rispondete a questa domanda. Io sono stato solo sull'Italia. Si è stato con me. Allora? Voi Whitneyngo per favore! Si stavo con Palitania? Allora? Non sistevo una opinione di fattor dove si parte dei opponenti si parte Created with free vision for non-commercial use Allora, fin atto che l'imputato Costa Giosuè produce Foglietto sul quale annotata la sua richiesta Created with free version for non-commercial use Si trovava al padiglione Italia Conoscete questa persona? Come si chiama? Al Guadagno Avete delle contestazioni da fare al Leonardo? Di Ugalusco veramente Eh, non conosceva No, ti faccia ricerlo a Ducalusco Cioè, Ugalusco non vuole fare no Ah, verità Non lo so che cosa direbbe di me Foglietto, comunque voglio dire una cosa Nascite così camoristo La sera di Cagliote Io ho detto che eravamo amico di Marco Mendo Si Però non ce l'hai detto che tu sei camoristo No, ma ci faccia ricerlo a Ducalusco Tu vuoi ricerlo a Ducalusco E poi poi mi racconta che la tua coppa E poi mi racconta che sta accanto in questo caso Che cosa si trova a Ducalusco Che c'è che ci sono dici loro che sono ignorato veramente Ma ignorando le cose Ah, non lo so Non, non lo so E per... Non ti faccia dire Che c'è di me Leonardo, guarda Vale anche per lei quello che ho detto prima Non ti faccia, eh VILENZIO Created with free version for non-commercial use Che eri amico di Marco Mendo a me non mi risulta no ma io che se io non volevo presto poi ti stai portando il dito con un mio amico e dici un po' sto farendo frago dì no ma tu sei avaridoso tu sei avaridoso io per dire ci ho fatto qualche cosa no vai penso che l'ho inserita senza altro no mentre che all'altro mi mettono a pesa se non lo so ce l'ho con una cosa ce l'ho con Marco Mette e mi dite imballo a pesa ma io non posso ma io ho parte di siccola che c'è una canuccia mio un salvo buono era un amicizio di fratellanza come è un amicizio di manovia ma io sono 15 anni non so che cosa non è un amicizio di siccola tu a me ma sai pure io ho fatto sempre un po' dici no franco dì io ho fatto sempre e fila di banca io ho fatto esci e sono sincero signor presidente o passato ma non è di quei patacchi rivolgi ringota farsa created with free version for non-commercial use ma sono fatte che dicono da io sono camborrissi ma com'è di finanziatore ma se c'è la parte di vicenda mi ha lì una volta che l'ho voglia fai 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 papita signor presidente sono sfigò va bene voi lo so potete andare va bene ma se c'è la franca non l'avete mai vista non mi ricordo non vi ricordate il nome o non vi ricordate la persona che vi sta di fronte è Didato Ciro lei a proposito di Didato Ciro ha dichiarato di averlo conosciuto personalmente e in dibattimento ha anche precisato di averlo conosciuto al padiglione San Paolo created with free version for non commercial use non mi ricordo non si ricorda questa cittostante cioè come che in dibattimento poco tempo fa lei ha detto queste cose su Didato Ciro e oggi non se le ricorda lei ha parlato di un Didato Ciro si ho capito sempre se non si era un Didato Ciro ma non sarà lui comunque non mi ricordo questo Didato Ciro praticamente non vi dice niente questa persona che vi dentro no e non l'avete conosciuto a San Paolo la donna ripeto non mi ricordo domande potete andare riconosce questa persona? neanche neanche questa persona? no per adesso non mi ricordo al solito le rivolgo la domanda se la non la ricorda come si era creata con la free version per non commercial use non l'avete visto di persona? non l'avete mai vista di persona? no loro non mi ricordo si è un questo non si ricorda nemmeno se l'avete incontrato? no la persona si chiama Cifuni Andrea detto Capoglione ma avete mai conosciuto una persona di questo cognome? come? Cifuni Andrea detto Capoglione no non mi dice niente questo cognome? no no voi avete invece dichiarato di averlo conosciuto personalmente? no mi sarò confuso ma non l'avete mai capito? le altre persone che sono fotofine adesso che non ho accusato poco dubbi ma noi non ve lo scordate voi siete di questo siete certo di non averlo mai conosciuto? no no degli altri eravate un po' in dubbio? si avete domande? potete andare stiamo vedere anche in questo caso gli venne mostrata una fotografia created with free version for non commercial use dalla speta non risultato vediamo un po' o meglio si all'inizio si dice genericamente mi sottopone nomi e fotografie risultate dal eh dal rapporto conoscete questa persona? come si chiama? chi l'ha deciso? chi l'ha deciso? avete delle contestazioni da muovere a? io lo conosco signor conoscete questa persona? sì ma io vorrei una sola cosa perché lui non mi ha conosciuto conoscete questa persona? sì ma io vorrei una sola cosa perché lui anche lui è un uomo sì quando mi ha conosciuto no? se lui sapevo se io era comporriso no? perché io l'ho conosciuto lui sete sette anni fa è vero? perché sono sobra una sensione sì e non sei vero no? che non era comporriso è basta questo vorrei sapere su da tanto non l'ho visto più ma poi non è che voglio dire una cosa quando si vuoi c'era con me sì dai stanzi pubblici se no adesso non fa una cosa sette anni fa esatto poi è passato il tempo a me me l'hanno detto che non è che ti hai legalizzato io oppure sti vivi presenti che stiamo a legalizzazione perché no? non ho detto c'è questa ammonezza che stiamo in ammonezza d'acchè l'ammonezza che noi stiamo a entra noi oggi ci troviamo di queste condizioni tu l'ho che è già perché era una ammonezza però no se tu cosa dice hai gente che mi ha detto che tu i ricamorrisi e che tu non mi ha detto che le calizzati potessi stare le calizzati created with free version for non-commercial use sette o tanti anni fa ci abbiamo visto in giù esatto vorrei dire una cosa al signor Presidente quando volte mi hanno arrestato mi hanno arrestato signor Presidente 4-5 di noi no quando ci hanno portato in carcere ci hanno messo sempre separati sì esatto per un parco incontrato altrimenti quando ci hanno arrestato il giudice no noi che facevamo dicevano tutti lo stesso e come sono tanti è identificamente il quale signor Presidente perché lui ha ragione di dire lo saputo perché lunedì lui stava con Maria in carrile nella campagna ero passato esatto ma non so se allora ci sei votato voi no no glielo hai scritto scusa no no glielo hai scusa e allora io non ti ha detto Maria in carrile però esatto no che oggi ti ha detto un'altra un'altra è tutta una prassa signor Presidente perché siamo tutti insieme e lo stesso si mette ad essere a me con quattro amici e stiamo insieme io prima che sono interrogato created with free version for non-commercial use questo è tutto voglio la salute ma io non avete altro da rinno se vado a montagna ascoltarmi vedete il signor Presidente non perché per il confronto per altre ragioni e dopo perché sennò interrumpiamo questa fase può andare conoscete questa persona però il cognome non mi ricordo l'avete conosciuto come signor Presidente non mi ricordo signor Presidente che anni 78 77 79 come c'erano lui 77 sono 3-4-1 eh sono 3-4-1 uccello 3-4-1 ma poi io comunque mi ricordo che c'erano 3-4-1 uccello viett voi non l'avete mai vista non l'avete mai si posso lascivi signor Presidente ma ci vuoi 3-4-1 creato con la free version per non commercial us Presidente ma io non sono stato interrumpo quando interrumpo non ho sentito non me l'avete contestato forse non ve l'ha ricordata no no non è stato contestato volete sapere che cosa dice sul vostro conto ma città signor Presidente ma fra fra angolone mi conosci bene a me mi conosci proprio bene stai senti ci hanno mutato il cielo ma sei più o meno sopra il nome mio comitato no stai non mi ricordo il nome e il cognome sicuramente il nome e il cognome sopra il nome il cognome mio nessuno ricordo perché è difficile ma sopra il nome tutto quanto mi conosci sopra il nome no comunque la persona che le sta di fronte si chiama Michale Nunzio a proposito di Michale Nunzio created with free version for non commercial use di Michale stanno vedendo quanto possiamo stanno vedendo un gigante se un genio se hai un gigante c'è Ciccino che lei non so chi la ma la CX sono tre anni che la ma la CX Ho conosciuto alla Poggio Reale e della Ngo per la periferia napoletana, in cui sta detto. Si può sapegli come si dà detto? Si può sapegli tutte queste cose, sono archivi, ma c'è Ngo, non erano fatti i 50 e 30 uaiuli. Sase esatto, un modo è semplice. Se non si ricordate qui sono stati più comunali, ha già come voi? Si ricordate che sono stati fatto, quando si ricordate i suoi stati, ci sono stati più efficaci, non? Si vede inera da un'africchia, chi è l'elf��a. Create e avere un'interesse di non commerciale uso. Come si ricordate qui, non per esempio? ha visto anche la fotografia? ha visto la fotografia il nome no? la fotografia? si si ah sulla fotografia? ma questo non lo so comunque avete qualcosa in particolare da niente? io niente signor Presidente io niente a me niente su questo campo lì su questo va bene tu non mi sai a dire chi è chi ce l'ha detto comunque l'avete conosciuto da Leonardo? si forse si dicevo geno dicevo lo stato geno ma sono stato 4 o 5 giorni e sono partito perché se non mi dò fare un appena e sono partito questo non sono geno va bene creato con la free version per non commercial use il nome è il nome il nome non te l'ho ricordato però l'ha conosciuto si mi ricorda? si ricorda dove? non mi ricordo adesso suo nome è Maillo Salvatore un figlio dopo cosa? un figlio? dopo cosa? non mi ricorda niente il nome? no avete qualcosa da chiedere? vabbè lui dice che mi ha conosciuto no? se abbiamo capito e ma dove? poi Gerardo dove? così via non mi ricordo non si ricorda dove l'ha conosciuto? no no ma della quattro e poi Gerardo sono stato solo 2 mesi non mi ricorda che sono un accusato sto dicendo non lo so però non lo so solo 2 mesi per poi c'è la corte sono stato solo 2 mesi e poi Gerardo d'accordo sto dicendo non mi ricordo però lo conoscete? non mi ricordo tanto bene perché tutto quello non mi sembra che non mi ricordo tanto bene creato con la free version per non commercial use sul suo conto come? sul suo conto cosa ho detto sul suo conto avete detto che vi risulta che fa parte della NCO per la zona di Ponticelli e che l'avete conosciuto in carcere quindi non mi ricordo come si sia tu tu non vi ricordate? no avete qualcosa in particolare da chiedere a? no io mi conosci potete andare? conoscete questa persona? si come si chiama? non mi ricordo tutto comunque lo conosci lo conoscete? si si voi lo conoscete? lo conoscete? non l'avete mai visto? sapete precisare dove l'avete conosciuto? a Poggio Reale a Poggio Reale? il signore è di Castellamare o no? eh? secondo uno qualche persona a Poggio Reale a Poggio Reale io sto dicendo me lo sto inventando sto dicendo molto forte voi non l'avete mai visto? no comunque la persona che vi sta di fronte è avitabile è Punito Raffaele si si è Punito Raffaele si si è Punito Raffaele? si lui e il suo nello si dottor si 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 with free version for non-commercial use si si Grazie a tutti.